hai mangiato tante volte mancano solo 3 cucchiai tu sei molto bravo dai dai sedi mangia vai sedi dai sedi metti il parmigiano se vuoi ma smetto un po di parmigiano ma dopo andiamo a casa a vedere andiamo nelle zone a vedere vorrei guardare quello degli indiani quello che hai detto che attacchi gli indiani a cosa sei vigilati che attacchiamo gli indiani no è un film quello che hai appena detto gli indiani no ho imparato dei marziani vai sedi guarda che formaggio ah non ho usato tantissimo il formaggio vai dai sedi dai sei bravo dai 1 2 3 come quando vai sott'acqua you've got the power poi fai una corsa e vedrai come corri veloce you've got the power ah sei bravissimo sevi dai adesso sevi guarda un altro con un altro carichino di formaggio è che sono freddissimi si ma questi vanno benissimo perché ti rinfrescano la panza bravissimo ultimo sei troppo bravo sevi guarda guarda l'altro cheese si 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 dopo te lo fa fare altro cheese e anche questo è fatto e sei un ceni ceni and you are a champion ciao